Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo del Low Alpine Sirac 50, uno zaino, un bel bestione da 50 litri, ma uno zaino che punta al sodo senza fronzoli, uno zaino in cui dai, ve lo spoilerò già, il suo maggior pregio è il fatto che vi durerà a lungo per tantissimi anni. Però no, andiamo per gradi e iniziamo la recensione. Come primo dettaglio che andiamo ad analizzare, come solito, il peso. Parliamo di uno zaino, come vi dicevo, da 50 litri che pesa 1,8 kg. Peso che alla fine è uguale alla media degli zaini presenti sul mercato di questo litraggio, quindi va bene, cioè il peso è quello classico, quindi va bene. Inizio, come al solito, a parlarvi di questo zaino dallo schienale, perciò ve lo giro. Come potete vedere, già a primo colpo d'occhio abbiamo uno schienale a metterla tra l'ergonomico e il telato. Telato perché comunque abbiamo tutta una parte fatta in rete, qua soprattutto al centro, mentre la parte laterale è di tipo ergonomica, quindi con tutta la struttura che ci va a scaricare bene il peso, che ci va a dare tanto comfort sulla schiena, soprattutto con alti carichi. Vi pronuncio già che questo zaino è pensato per portare bei carichi. Parte ergonomica, naturalmente, che poi scende fino ad arrivare sulla fascia lombare, nella parte dello schienale. Diciamo che questo zaino, a livello di traspirabilità, mi ha convinto, sì mi ha convinto, no, nel senso è nella media, anche qua, rispetto ad altri competitor che ci sono nel mercato. Traspira, finché lo usiamo a temperature calde, ma quando inizia a diventare caldissimo, e quest'estate ne abbiamo avuto la prova, ecco, lì iniziamo a sudare parecchio. Quindi diciamo che per quanto riguarda la traspirabilità, è nella media. Un aspetto che però mi ha convinto particolarmente, è il fatto che questo zaino tende a flettersi un pochino, andando a seguire i nostri movimenti. Quindi, come dire, da poco quell'idea, quando abbiamo sullo zaino, di avere su un qualcosa che non ci segue, un qualcosa che dobbiamo fare attenzione, perché rischia di sbilanciarci, ecco. Scendendo, arriviamo a parlare della fascia lombare, che è la caratteristica che più mi ha incuriosito di questo zaino, e che soprattutto mi ha detto, ok, lo voglio provare, ovvero questa fascia lombare doppia. Come potete vedere, qui abbiamo praticamente due sistemi di fascia lombare, che una volta che andiamo a richiudere lo zaino sulla parte davanti con la cinghia, vanno a unirsi, e io mi aspettavo che dessero uno scarico del peso ottimale. Cioè, uno scarico del peso di quelli che veramente dici wow, ma così non è stato. Non è uno scarico del peso che lavora male, è anche qua nella media. Nel senso, uno zaino che lo possiamo portare a un massimo di 12-13 kg, e già 13 kg, fidatevi, comunque un po' lo sentite sulle spalle. 12 forse il litraggio proprio massimo. Ammetto che da un sistema di questo tipo mi aspettavo un qualcosa di più dal punto di vista di chili da poter trasportare. Sempre sulla fascia lombare, però, troviamo due enormi tasche. Queste sono davvero belle grosse. Ci sento uno telefono di dimensioni veramente generose, anche una piccola fotocamera compatta, e lo troviamo sia su una parte della fascia lombare, sia sull'altra. Per quanto riguarda, invece, la chiusura sul davanti, ve ne ho accennato prima, ma adesso vi dico che è bella solida, bella strutturata. L'unica cosa che non mi ha convinto è che quando abbiamo il nostro bel pezzo di tessuto, di cordame, che avanza, questo ci sballonzonerà davanti alle nostre gambe, perché non c'è modo di poterlo raccogliere. Non ci sta praticamente da nessuna parte. Continuando, arriviamo a parlare degli spallacci che hanno una sezione anche abbastanza grande. Lavorano bene, non si sente tanto il dolore sulle spalle, e anche qua, per chiuderlo, abbiamo la solita clip con all'interno il fischietto. Non ha la parte elastica, nemmeno questo zaino di Lowe, però, questo qua, per regolarlo, corre su una slitta laterale, quindi possiamo andare a regolarlo praticamente al millimetro in base a come può piacere a noi. Infine, per quanto riguarda lo schienale, vi dico che è regolabile, in base alle varie altezze, basta semplicemente andare ad aprire la parte qua esterna con lo strap, questo si tira su e giù e possiamo regolarlo. E naturalmente poi, per poter andare ad avvicinare lo zaino alla nostra schiena, quindi scaricare meglio il peso, troviamo in alto le classiche fettucce dove andare ad avvicinarci lo zaino. Detto ciò, possiamo continuare con la recensione del nostro zaino su una parte laterale. Allora, su questa parte laterale vi voglio parlare innanzitutto delle tasche. queste tasche sono letteralmente enormi. Cioè, sono enormi perché ci stanno dentro benissimo due borracce da un litro senza tanti problemi. Pensate un po', io nell'ultimo trekking che ho fatto con questo zaino ho portato da una parte borraccia con la palleria della tenda e dall'altra un'altra borraccia con un treppiede. Cioè, tutto in due tasche laterali. Quindi, potete capire quanto davvero sono grosse e soprattutto elastiche. cosa non da poco che apprezzo sempre è l'apertura sulla parte anteriore che mi dà modo di poter riporre in autonomia la borraccia e poterla prendere. Per quanto riguarda la parte laterale l'unica cosa che troviamo inoltre è la classica clip da chiudere con la fettuccia da tirare per poter andare a comprimere lo zaino. E come potete vedere praticamente non troviamo più nient'altro. I due lati sono praticamente uguali. Non sto a descrivervi anche l'altro. però adesso parliamo della parte anteriore dello zaino. Come potete vedere lo zaino è davvero molto minimal. Nella parte inferiore troviamo l'apertura dove andare a prendere nel caso materassino tenda sacco a pelo classica con le nostre fettucce da poter andare aprire e richiudere per poter compattare lo zaino e nel caso portare anche del materiale all'esterno. All'interno la tasca può essere sia divisa tramite un piccolo pezzo di tessuto che si vada ad attaccare con due nastreni oppure utilizzarlo come sacco singolo e che altro? Anche qua come potete vedere è molto semplice davvero molto semplice questo zaino. Invece nella parte superiore continuando arriviamo a questo tirante che ci aiuta sia a poter comprimere un po' lo zaino se lo dovessimo utilizzare mezzo vuoto sia nel caso poter ad esempio mettere fuori altro materiale come può starci una tenda può starci una giacca eccetera cosa non da poco soprattutto anche il fatto che qua sotto abbiamo questo fermo praticamente che se non andiamo a mettere una tenda evita che questa possa cadere più in basso e quindi evitiamo di perderla. E sempre sulla parte posteriore naturalmente troviamo anche classici nastrini dove andare a riporre i bastoncini uno da una parte e uno dall'altro. Continuando arriviamo a parlare della parte superiore dello zaino nel cappuccio troviamo una sola tasca quella superiore non c'è quella all'interno però questa tasca è veramente anche qua enorme cioè ci stanno dentro due borracci per intenderci potete metterci dentro di tutto e mi raccomando come al solito non esagerate perché è la parte alta lì il peso dello zaino si può in serio sentire però è davvero molto molto grossa. Per quanto riguarda l'apertura interna troviamo la classica apertura che si può utilizzare a due mani per aprire molto semplice molto veloce e per chiuderla il classico laccetto da andare a tirare per chiudere la sacca non troviamo il secondo laccetto per poter andare a ridurre le dimensioni della sacca però cosa sempre molto apprezzata troviamo la nostra clip passante superiore da poter andare a richiudere per portare ad esempio la corda oppure qualche altro oggetto nella parte superiore per quanto riguarda la parte acqua come vi dicevo abbiamo le tasche laterali per poter portare le borracce c'è la possibilità di mettere all'interno una vescica tipo camelback con possibilità di far uscire la proboscite sul davanti nella parte inferiore troviamo il classico rain cover con il nastrino poter andare a tirare per poterlo serrare bene attorno allo zaino e basta veniamo dunque alle conclusioni cosa ne penso di questo zaino come vi anticipavo all'inizio questo zaino secondo me la caratteristica numero uno è che è semplice non ha tanti fronzoli è uno zaino che comprato oggi probabilmente vi durerà tantissimi anni i materiali naturalmente sempre di casa allo wall pin sono buoni tutto il cordame proprio il materiale con cui è fatto lo zaino è riciclato al 40% se non ricordo male però è buono cioè nel senso questo zaino è fatto per durare quindi se state cercando uno zaino col quale dire ok lo compro oggi lo uso per 5 6 7 anni secondo me questo può essere una buona scelta poi per quanto riguarda invece le tecnologie utilizzate come vi dicevo è uno zaino nella media non eccelle in niente ma non ha nemmeno niente diciamo da buttare via proprio zaino nella media ultima cosa naturalmente parliamo del prezzo di questo zaino viene venduto a 170 euro secondo me è un pelino altino nel senso che 150 sarebbe stato il prezzo più giusto però teniamo conto che l'U è un'azienda che ci tiene particolarmente ai materiali riciclati ci tiene particolarmente a dove far produrre i propri zaini e questo naturalmente sul finale del prezzo si sente quindi qualche soldo in più naturalmente questo zaino può costarlo proprio per come è dovuta la lavorazione detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauriente e esauristivo anche per questo video ti ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao